Esattamente, io avevo scelto David Guetta, scelta difficile, Black Eyed Peas. Esattamente, visto che io avevo scelto David Guetta invece che Black Eyed Peas, mi hanno detto di fare un altro... volevo ringraziare tutti gli amici del Diario Paninaro. Esattamente, io avevo scelto David Guetta, siccome era già definito vincitore. Non ricordo il nome, Sanca, mi minaccia con varie proposte. Tutta la Bacchetta Facebook piena, piena. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.